Ciao ragazze bentornate sul canale, oggi vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto io di Avon nella campagna numero 16 e poi vi farò un mini video per quanto riguarda i prodottini in anteprima scusate se sentite la tv ma Manuel guarda i Minion allora io ho acquistato 5 set di questi maschili di cui la pochette, il rollon e il bagno doccia di Avon Man questo set era 3,99 euro in offerta e io ne ho ventuti circa, se non ricordo male, 28 e io ne ho preso appunto 5 perché sono un'ottima idea regalo per Natale poi c'erano questi set per bambino bagno schiuma alla pera e sapone per le mani alla pera ad 1,99 euro entrambi come combo prodotto e quindi ne ho presi 3 perché appunto sapete che i miei figli sono 4 ma al piccolino ancora utilizzo diciamo scusatevi vi stavo dicendo, ne ho presi 3 anche se sono 4 i miei figli perché ancora al piccolo utilizzo appunto prodotti proprio da neonati e ancora non li ho ancora utilizzati questi e quindi appunto ne ho presi 3 poi ho preso un'altra crema delle New Clinical quella che ho preso, cioè il siero che ho preso la scorsa volta l'ho provato, lo sto ancora testando ma già ho visto che mi trovo molto bene e l'ho presa a 19,95 euro ho preso un'altra crema di Avon True la Nutra Effect Active Moisture da giorno con SPF 15 Oil Free questa qua mi sembra 2,99 euro in offerta e un'altra di New Clinical invece questa qua è il duo la crema che si utilizza comunque per gli occhi quindi per le occhiaie e per la base invece sopra l'occhio, la palpebra mi trovo molto bene, la utilizzo comunque spesso poi ho preso un fondotinta di Avon Lux in offerta a 10,95 o 9,95 e ho preso la tonalità, la colorazione Beige Linen poi ho preso 2 set individual blu da 3 pezzi di cui il Rollon, il Profumo e appunto il Gel Doccia da 250 ml ed era un'offerta 11,95 poi ho preso questa pushettina di Avon True che era un'offerta 3,95 se acquistavi qualcosa appunto di Avon True se raggiungevi comunque la somma di 15 euro poi nuovo set Little Lice Dress e sono appunto 2 pezzi Profumino questo qua è un set femminile e questa qua è la lozione corpo poi 2 bagnoschiuma sono carinissimi mele e cannella e prugne e vaniglia il maschetto 1,29 euro ciascuno in offerta set di Soft Mask 11,95 13,95 non mi ricordo perdonatemi erano 3 prodotti Rollon, Talco e Profumo il Talco l'ho regalato ad una mia cliente altro set di individual blu che già vi ho fatto vedere 2 set di Black Sweat Touch questo qua è maschile Profumo più gel doccia poi bagnoschiuma Avon Sensis edizione limitata Oriental Zen Gelsomino e Tè poi un altro Avon Sensis semiglia e Sandalo poi c'era la combo di un gel doccia maschile Avon Sensis 2 in 1 Power Fresh insieme appunto al Rollon questo qua on dati 48 ore protection ed è in offerta 2,99 io ne ho presi 3 però un un Rollon di questo qua l'ho regalato ad una mia cliente altro bagnoschiuma Orchidea Gardenia Bubble Bat da 500 ml mentre ho preso quello grande Vanilla e Fico questo da un litrozzo profumazione buonissima sembra quasi proprio natalizia ne ho buttato una a terra facciamo finta di niente poi ragazzi ho preso questi 3 prodottini insieme ad una cesta che ho già messo in bagno con Avon Nutra Effect questo qua ed è una lozione corpo 48 ore un'altra Avon Nutra Effect Ultimate Monster un'altra body lozione così body lozione parlo veloce sembra che mi mangio le parole ok facciamo danni ma si ma che ce ne frega e quest'altra hot air dovrebbe essere olio per i capelli dell'Avon Planet Spa air oil sincera ragazzi credetemi che non so cosa sia penso di sì non lo so comunque è quest'altro prodottino che poi magari cercherò di capire cos'è poi ho preso il profumino di Per Save Oasis a 11 euro e 95 e poi mi sembra proprio di aver terminato questi qua appunto sono tutti i prodottini che ho preso io e vi farò vedere quel cosino che ho preso in anteprima vi ringrazio grazie a chi mi segue a chi mi manda messaggini a chi mi saluta sempre a chi c'è sempre vi mando un bacione enorme e alla prossima ciao ciao